Musica Auguriamo al nuovo cittadino, buon compagno Lucia è il primo della lista, una vita lunga e felice, certi che il suo sorriso arricchirà di valori concreti non solo la sua famiglia ma anche l'intera comunità di Monterchi, l'amministrazione comunale. Una vera festa della famiglia, celebrare quello che significa essere oggi i genitori, questo è quello che è accaduto nella sala consigliare del comune di Monterchi dove sono stati premiati 13 nuovi nati nel 2017 in questo piccolo comune della Valtiberina e alle loro famiglie sono stati anche regalati 1000 euro. Dove si trovano i soldi? Abbiamo tutti come tutti i comuni, non navighiamo nell'oro, abbiamo delle problematiche, poi però gli amministratori fanno delle scelte e quindi le scelte di sostenere le famiglie, i ragazzi, noi le riteniamo una scelta strategica per il futuro di una comunità. Tra i nuovi nati vincono i fiocchi rosa 10 contro i tre azzurri. Aver coraggio oggi per fare figli? Abbastanza, perché ci vuole tempo, denaro, è un impegno costante, non è un gioco insomma. Lei è la terza dei tre bambini quindi noi abbiamo più che sostenuto la popolazione diciamo. C'è bisogno di nuove nascite? Sì, i piccoli comuni se no finiscono alla fine, la popolazione, noi anche se è tardi via ci abbiamo pensato. Ecco, perché crescere un figlio a Monterchi? Perché è una dimensione d'uomo, c'è ancora il contatto umano e magari si possono ancora trasmettere dei valori che sono quello dell'umanità, del contatto, della condivisione e credo che oggi è proprio rappresentativo di questo spirito della condivisione. Io grazie a questo evento ho scoperto che ci sono altre 12 famiglie con altri bimbi così un giorno ci possiamo vedere. Le 13 famiglie hanno poi visitato il Museo della Madonna del Parto recentemente restaurato che è ad ingresso gratuito per chi è in dolce attesa. Questo è un incentivo in più per venire a visitare un'opera dove spesso l'immedesimazione dello stato interessante tra la donna e l'opera è abbastanza forte insomma.